Il Recovery Plan, detto anche Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato nelle sue linee generali a gennaio, porterà l'Italia a fondi per 222 miliardi di euro. L'Europa attende dallo Stato entro aprile la versione definitiva di un piano che dovrebbe aiutare a rilanciare i consumi del Paese, ma anche e soprattutto a renderlo più moderno, inclusivo e sostenibile. Tutte idee su cui difficilmente si sarà in disaccordo, ma che nel dettaglio non sono ancora state sviscerate, tanto meno a livello locale. In questa, come in altre occasioni, secondo alcuni occorrerà farsi trovare pronti per evitare decisioni calate dall'alto o, peggio, vedere sfumare opportunità di crescita e riscatto. È la più grande opportunità che abbiamo. Questo piano Marshall, che porta 200 miliardi in Italia, ma non si sa quanti decine di milioni può portare e porterà dentro la provincia. È chiaro che non ci vuole molto tempo, che non abbiamo molto tempo. È anche chiaro però che se acceleriamo il tavolo di confronto, molti progetti sono già sul tavolo. Come dire, sappiamo quali sono le esigenze del territorio, sappiamo che ci sono le frane, sappiamo che per esempio la città di Voghera ha una necessità fondamentale di riqualificare e di rilanciare il centro storico. Sappiamo che la Greenway ha bisogno di essere sviluppata e così via. Ogni sindaco sa quali sono le sue esigenze. Tutti insieme, intorno ad un tavolo, magari con la regia della provincia, per spingere sulla regione, oltretutto i maggiori centri hanno lo stesso colore politico della regione, e identificare quali sono i progetti fondamentali e battere i pugni sul tavolo per portarle nel territorio. Ci sono 500 milioni sulle piste ciclabili. Quanto arrivano nell'Oltre Po? Più di un miliardo circa nella digitalizzazione. Quanto arriva al comune di Voghera, al comune di Mortale, al comune di Stradella, al comune di Pavia, al comune di Vigevano. C'è un mondo che sta finendo, c'è un mondo che sta nascendo. Non possiamo rimanere sempre e comunque l'ultima provincia del nord. Siamo la maglia nera. Grazie.